E' partito il conto alla rovescia per il Jova Beach Party a Vasto. In città cresce l'attesa per quello che è considerato l'evento dell'estate vastese. Il palco e il villaggio dell'evento sono in fase di allestimento nell'area dei pressi del pontile di Vasto Marina. L'area del concerto, situata a ridosso di piazza della Guardia Costiera, sarà raggiungibile con 37 navette messe a disposizione dal comune. Sono 9.392 i parcheggi a pagamento allestiti a nord e sud della città per gli spettatori. Oltre 200 le persone che presteranno servizio di sicurezza durante l'evento tra polizia locale, protezione civile, vigilanza e volontari. I cancelli saranno aperti a partire dalle ore 13.30 del 19 agosto. Lo spettacolo inizierà alle ore 15, tra i palchi su cui si esibiranno gli artisti. Questa mattina sopra al luogo del sindaco Francesco Menna per osservare da vicino l'avanzamento dei lavori. Un evento unico per questa città, la prima volta nella storia. L'evento che sicuramente cambierà il modo di fare concerto, cultura, eventi, spettacoli che porterà valore aggiunto alla regione, alla provincia, a Vasto, alla via verde costa dei Trabocchi, a una città che ha la grande voglia di fare, la grande ambizione di scommettere, la grande capacità di osare. Una grande squadra al lavoro comunale della Trident, di Giovanotti, della protezione civile, del mondo del volontariato, delle forze dell'ordine, del governo, della prefettura. Insomma, una grande squadra umana che lavora per un evento straordinario. Intanto la Commissione Comunale Ambientale, che ha dato via libera allo spettacolo, giovedì effettuerà un sopralluogo con gli addetti della Trident, società organizzatrice dell'evento, per monitorare lo stato dell'area pre e post concerto. Infine, come da ordinanza sindacale, su richiesta del prefetto, sarà vietata la vendita di alcolici in bottiglie di vetro nei due giorni del concerto, sia a Vasto che a San Salvo.